Uno dei principali problemi che affligge l'ambiente è l'emissione di CO2 in atmosfera. Molte di queste emissioni avvengono ad esempio all'interno dei porti d'Italia quando si consuma carburante con mezzi e attrezzature a supporto dei passeggeri o delle merci, insomma di tutte le attività che ci sono nei porti. Col presente disegno di legge propongo di sostituire automezzi e attrezzature che si trovano all'interno dei porti di tutta Italia gestiti dall'autorità di sistema portuale e che sono alimentati con motore endotermico con automezzi e attrezzature alimentati elettricamente, ibridamente o con idrogeno. Sarà la stessa autorità di sistema portuale con le imprese che operano nei porti a garantire la realizzazione dei punti di rifornimento di raccolta o anche di accumulo. Sarà poi il Ministero per le Infrastrutture e le Mobilità sostenibili ad approvare con decreto questo piano. Aspetto i vostri preziosi suggerimenti nella sezione L'Ex Parlamento su Rousseau.